ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su rider insieme a voi è un gioco dove c'è questa macchina e ci sono delle trappole penso che tanti lo conoscano per chi non lo conosce eccovelo qua e faccio schifo anche se il mio record è 54 ci prendiamo subito una nuova macchina comune andiamo fa più schifo di mio fratello ma almeno abbiamo una macchina si possono vincere le macchine nuovi percorsi di questi colori ok vai c'è una serie di trappole roba del genere ciao porco cazzo te sei sempre 24 H su 2 ok ok raga ragazzi devo fare un nuovo record almeno 50 ok c'è pure Janet che vola ma chi se ne frega adesso qua ci stiamo concentrando su rider ragazzi quell'antomobilista è pessimo non è nato per guidarla in macchina è una stavolta la presa gialla si ma non è ma non è sempre destinato a guidare non è mai destinato a guidare ragazzi se la prende gialla e vinciamo la partita adesso ho detto e facciamo un nuovo record faccio cagare e vinco pure ragazzi ci sarà un nuovo video tra poco di full guys di stumble guys lo farò non perdetevelo che sarà bello che sarà bello caricherò tre video oggi guardateli tutti e tre si e scrivete altrimenti farò una brutta film siamo quasi ai 250 iscritti così almeno facciamo lo speciale 100 iscritti volano perché mi ricordo che per arrivare al 150 iscritti ci abbiamo messo tipo qualche mese invece qua ci sto mettendo qualche settimana cioè grandi grandi noi ragazzi grandi voi me ne mancano preferisco non guardare preferisco non guardare preferisco non guardare di nuovo no 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 si è salvato il cuore ok ragazzi perché tra poco usciranno due video di stumble guys poi la finirò un pochino con stumble guys e porterò di nuovo roblox oggi ci sarà anche un video di roblox con 2012 a mirino e gio gattino mia mi pare che 2012 2007 a mirino è vero scusate mi confondo sempre con 2007 e 2012 sta giocando no sta giocando che? sta giocando con gli avversari ma guarda con chi giochi ma li sta prendendo in giro ok a me mi sta fortuna completando le missioni raga ottenete dei punti per prendervi nuove macchine perché questa qua fa veramente schifo e vi dico di non accelerare tanto perché accelerare è una brutta cosa potete pure accelerare tipo qua accelerate ma poi regolatevi perché io non vi dico come faccio perché non lo so nemmeno noia a volte ok rallenta no hanno bombati non è diventata più forte più vita ok ragazzi dobbiamo arrivare a 35 almeno chissà dove ce la facciamo siccome il mio record è 52 vedete quel numerino io sono arrivato a 52 il che sta tipo a quasi un minuto il che no in realtà sono stato tipo un minuto e mezzo in una partita di rider anche forse più di un minuto che quella partita è durata un bel po' e tipo in queste situazioni ragazzi io non so come faccio a vincere non ci credo ho colpettato pure la sfida 10 pure la decima dai raga arriviamo più avanti no me ne mancavano 10 al mio record quasi il mio record accumula 28 gemme in in una corsa bella che amore ve la porterò se la vogliamo troviamo ovviamente sfida premio bellissima sta macchina è bella raga con una corsa intende con una partita siccome qua solo cose di macchine quindi dai sono a 14 28 ce la posso pure fare in una partita che sarebbe una corsa nel gioco il gioco intende no non ci credo si 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 ok intende no che faccio schifo e sempre e sempre di punti li guadagno perché 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 queste gemme ti fanno prendere una nuova auto infatti questa qua non è che sia bellissima poi una mezza caccata ok raga quelle là erano un po' difficili da prendere poi magari per alcuni sono facili per me non molto no 16 su 28 raga andiamo ok vai così grazie vado così ok cioè come sto andando adesso ahhh no no dai hai perso eh colpo tuo perché hai buttato la stiga cosa hai fatto io colpo tanto non è il caso perde anche contro una emza e e e allora e allora emza è fortissima non è vero scatto se riesce a battere eh non è vero non conta se è il camion di trofei o rara è la forza che conta è la mia schifezza quanto faccio schifo ah sfida 11 su 100 bellissimo ok 850 e una nuova auto ora siamo 620 gemme raccolte dio mio vai bravo si prese tutte a parkour mega hobby no non ci credo ragazzi se guardate da tutte le parti in giro noterete un numero nella vostra vita anche in brawl troverete sempre il numero in minecart troverete sempre il numero da tutte le parti che guardate un numero ci sarà sempre perché la matematica non vi lascia andare vi continua a perseguitare e non vi lascerà mai la matematica anche quando sarete tipo a 30.000 anni nel mondo degli spiriti noterete sempre il numero non vi lascerà andare la matematica purtroppo io odio matematica però la mia materia schiferita però anche la mia schiferita fa cagare no ok dite la vostra maestra di matematica la matematica fa cagare perché all'asilo non si offenda ma perché all'asilo dite alla vostra prof la matematica fa schifo vi boccia vi espelle si sospende questa ragazza non fatelo fatelo dai fatelo fatelo no scherzi in realtà non fatelo maestra prof maestra prof uguale basta che sia una che insegna matematica pure la vostra madre dite la matematica fa schifo se vostra madre è una maestra di matematica o una prof di matematica dite che le prof di matematica sono ancora più fastidiose la professoressa di mia madre era pazza era pazza veramente maniaca oh un'altra volta no che cavolo no tutti i brawler sono stati cosa è successo dai raga sta macchina però fa schifo quanto un cane ma i cani sono belli i cani sono schifo ma i cani sono belli morto ogni volta ma non morgo mai perché te ha morso è vero ragazzi mio fratello mi ha morso il cane ma io non sono il cane non ho morso nessuno io non ho mai morso nessuno nella mia vita io ho fatto sì fai cagare cioè te hai morso una persona chi chi me sicuramente me è vero questo me lo ricordo avevo tipo quattro anni cinque e chi se ne frega sei quattro anni o cinque scusa ma ero piccolo ero piccolo ho capito ma vabbè ma non mi fa termina così ti ha morso pure la testa capito io ti faccio hai morso qualcuno no dai veramente oltre a me no no cioè qui non faccio così schifo che mi hai morso mi ricordo una volta che avevi lanciato una macchina piccola con quei giochi la raga quei giochi addosso a mamma ti ricordi che avevi lanciato quella macchina addosso a mamma vecchi ricordi pochi anni avevo avevi tipo tre anni e ovviamente ne avevo sette sei sei o sette non mi ricordo sei o sette o otto nove no otto nove no sono più di tre anni e raga sto video è durato un sacco penso che ultimo no no voglio prendere una macchina l'altra macchina insieme a voi ma ma io sto bambino vincendo e allora sempre mi capita cosa che schifo di vita che ho questo è vero la vita che fa schifo è solo perché ho te raga mi si è incippata raga mi si è incippata mi si è incippata la macchina ragazzi mi si è incippata la macchina raga mi si è incippata mi si è incippata se va adesso è pronto guarda meglio così che cavolo era capitato mi si è incippata la macchina cosa c'entra se mi si è incippata di nuovo la macchina ok non si è incippata ti è piaciuto quando si è incippata sì certo che te non mi vuoi bene perché sono malefico lo sai finalmente tanto la macchina raga insieme non la prendiamo mi sa pericolo pericolo sei un pericolo naturale momè e se stecca nooo la vinco è bravo il balcardo perché ma è tutta una burloccia il video eee sai non ne manca una parolaccia vai raga dai la macchina allora ci facciamo quest'ultimo match raga e poi prendiamo la macchina porco cane sto registrando tipo da mezz'ora sto registrando ma per una passione si fa di tutto ok la faccio cagare ah ti odio io odio il balcardo ma ma vanno oh raga è pico è pico io ci credo bellissima quindi ragazzi